Oggi facciamo i pancake velocissimi 65 grammi di zucchero e li sbatto insieme Aggiungo il latte E a poco a poco aggiungo anche la farina Per ultimo aggiungo il lievito Aspettate qualche minuto e quando fa le bollicine sopra li girate Ricordatevi di non schiacciarli e lasciarli belli gonfi I pancake sono pronti e adesso andiamo a guarnirli Potete spalmarli con la crema di nocciole oppure solo spolverizzarli di zucchero a velo E ora che li avete guarniti, allacciate i grembiule e preparateli anche voi Io me li mangio